Quando si incontra un uomo, mai fare come prima domanda che lavoro fai. Che lavoro fai? Vivere un'esperienza è sempre meglio che cercare e arrovellarsi di capire come sarebbe andata. Posso avere anche io paura di mollare tutto per una persona. Non dire mai ad un uomo che hai smesso di sognare. Mi ha fatto capire che devo sognare di meno. Grazie a tutti.